ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video sul canale oggi dopo aver analizzato nel precedente video i peggiori e peggiori dieci sessioni riguardante la sessione invernale di gennaio 2023 oggi andremo ad analizzare i migliori otto acquisti prima di iniziare però volevo ricordarvi di lasciare un piacere video di iscrivervi al canale di lasciare un commento qua sotto con la vostra persona letto detto questo partiamo subito dall'ottava posizione dove troviamo florian toven che è stato prelevata titolo definitivo gratuito dagli appunto dagli svincolati dopo la sua rescissione ed è passato all'udinese il voto che abbiamo deciso di segnare come anche nel precedente video riguarda il post dell'ufficialità che abbiamo pubblicato sul profilo instagram il link lo trovate sempre qua in descrizione ed è 7 meno un giocatore che va a sostituire l'infortunato d'eulofeo giocatore importante per la rosa e l'acquisto dell'udinese è un acquisto sicuramente rischioso perché è un giocatore che deve tornare in forma deve riconoscere il campionato deve tornare a un livello accettabile per il nostro campionato ma può essere una grande rivelazione perché sappiamo le sue qualità sappiamo quanto ha dato anche per poi la nazionale e per tutte le sue esperienze precedenti e potrebbe essere un giocatore che poi vada a trascinare l'udinese per qualcosa in più di un semplice posizionamento in metà classifica che forse in questo momento rappresenta anche un obiettivo per l'udinese visto la situazione da cui era partito che nella prima giornata lottava addirittura per un post in champions teorico passiamo poi alla settima posizione dove troviamo un giocatore che era presente anche nella flop 10 cessioni stiamo parlando di Nedim Bairami che è stato prelevato a titolo definitivo per 6 milioni ed è passato dall'Empoli al Sassuolo anche in questo caso il voto che abbiamo deciso di segnargli è 7 meno giocatore importante giocatore che si integra benissimo nel progetto appunto nero verde parte tra ore arriva Bairami che è un giocatore comunque ancora abbastanza giovane che può ancora dimostrare tanto con continuità senza pressioni perché comunque il Sassuolo molto probabilmente farà un campionato da qui a fine appunto a fine della stagione tranquillo dove potrà anche lanciare magari nuovi giocatori per puntare poi alla prossima stagione è un giocatore che grandi qualità gli è mancata sempre una continuità soprattutto negli anni dell'Empoli in Serie A perché in Serie B era diventato un giocatore importante poi un po' per cambio modulo un po' per anche dei suoi atteggiamenti non è riuscito a trovare la titolarità fissa sia nella passata ma anche in questa prima parte di questa stagione quindi la cessione è stata più che doverosa e Bairami adesso dovrà cercare di confermarsi nella squadra nero verde. Passiamo alla sesta posizione dove troviamo un difensore stiamo parlando di Corai Gunther che è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato dall'Ellas Verona alla Sampdoria in questo caso il voto che abbiamo deciso di assegnarti è 7. Un giocatore importante un giocatore che può trascinare davvero leader così come è stato sempre a Verona la Sampdoria ha una salvezza che in questo momento risulta molto complicata un giocatore che può dare tanto punto per rinforzare poi anche l'idea tattica che è di Stankovic che ha voluto tornare a una difesa 3 quindi Gunther rappresenta il difensore perfetto per questa tipologia di gioco visto i suoi anni di esperienza in una difesa 3 di alto livello come così come era quella dell'Ellas Verona e quindi può ritornare molto molto utile alla squadra d'Oriana. Passiamo poi alla quinta posizione dove troviamo Youssef Malè che è stato prelevato in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Fiorentina a Lecce con il voto 7. Anche qui un acquisto che si integra alla perfezione con il progetto del Lecce giocatori giovani giocatori magari anche da affermare e giocatori di rampa di lancio in questo caso stiamo parlando di un giocatore che ha già dimostrato di poter valere il nostro campionato deve anche lui trovare quel definitivo salto di qualità per diventare uno dei titolari in una rosa collaudata così come quella del Lecce che ha cambiato sempre poco a centrocampo hanno giocato quasi sempre gli stessi e Malè deve riuscire ad integrarsi al meglio mostrando le sue qualità di inserimento di tanta corsa e questo può essere sicuramente un giocatore molto molto interessante che potrebbe fare comodo alla squadra salentina. Passiamo poi alla quarta posizione dove troviamo Eldor Shomurodov passato dalla Roma allo Spezia con la formula del prestito e il voto che abbiamo deciso di segnare in questo caso è 7. Il giocatore che mancava allo Spezia perché lo Spezia nella prima parte di stagione ha avuto praticamente in rosa solamente due attaccanti, due attaccanti molto simili così come Enzolà e Estrelli che poi una seconda punta da affiancare che però di ruolo non è mai stata una seconda punta perché stiamo parlando di Ghiasi che è più un ala o più un esterno. Shomurodov rappresenta un giocatore perfetto da affiancare a Enzolà poi complice anche l'infortunio di Enzolà Shomurodov adesso sta giocando nelle prime partite da solo insieme a un'altra seconda punta ma può essere un giocatore importante perché ha mostrato nella sua esperienza in Serie A precedente a quella con la maglia della Roma le sue qualità, un giocatore che ha il senso del gol è un giocatore che si sacrifica tanto può puntare anche magari alle qualità per arrivare anche in doppia cifra ma la Roma non ha mai trovato spazio non gli è mai stata data neanche tanta fiducia quando gli è stata data poi non ha convinto però per lo Spezia può essere un acquisto importante ed è un giocatore che può trascinare la squadra a un obiettivo chiamato salvezza. Passiamo un po' al gradino più basso del podio dove troviamo anche qui un giocatore che era già presente nella flop 10 cessioni ed anche qui un giocatore che è passato allo Spezia stiamo parlando di Zurkowski che è stato prelevato a titolo definitivo per 4 milioni ed è passato appunto come appena detto dalla Fiorentina allo Spezia. In questo caso il voto che abbiamo deciso di assegnare è 7+. Un giocatore che ha mostrato come ho detto anche nel precedente video di questa serie le sue qualità con la maglia dell'Empoli poi la Fiorentina ha deciso di puntarci a inizio stagione cosa che poi promessa che poi non è stata mantenuta e conseguentemente il centrocampista ha deciso di cambiare aria un giocatore importante per lo Spezia perché è un giocatore di inserimento un giocatore che può anche andare a mettere diverse marcature in una singola stagione ed è un giocatore di tanta qualità e corsa che può essere molto utile a una rosa come lo Spezia che forse gli manca anche questo tipo di giocatore ha più un centrocampo con tanti giocatori duttili con tanti giocatori che fanno la fase difensiva piuttosto che la fase offensiva e Zurkowski può essere uno di questi. Passiamo poi alla seconda posizione dove troviamo un ritorno nel nostro campionato e stiamo parlando del ritorno di Josip Brekalo che passa dal Wolfsburg alla Fiorentina a titolo definitivo e il voto che abbiamo deciso di segnare in questo caso è 7+. Un acquisto importante per la Fiorentina che va a riempire un reparto come gli esterni che non è così tanto ampio con alcuni giocatori messi più lì per bisogno che per qualità tecnico-tattiche Brekalo torna nel nostro campionato dopo aver fatto molto bene con la maglia del Torino nella scorsa stagione differenza che torna al suo ruolo originale perché sappiamo quanto Brekalo abbia giocato bene ma con un ruolo diverso anche se poi se andiamo a vedere la posizione in campo molto spesso lui si allargava proprio ai limiti del campo per poi rientrare e calciare con la Fiorentina sarà costretta a fare questo movimento può essere un giocatore importante può essere un giocatore che se Tor prova nuovamente il giusto feeling con la squadra il giusto feeling con il gol può portare la Fiorentina a parecchi punti in più ma soprattutto può portare a un campionato di crescita ma una competizione che in questo momento dove la Fiorentina è ancora in gioco da onorare al massimo passiamo poi al primo posto dove troviamo il migliore acquisto di questa sessione invernale anche lui vi anticipo già che era presente nel flop 10 cessioni stiamo parlando di Ivan Illich che è stato prelevato in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Torino preso appunto dall'Ellas Verona il voto che abbiamo deciso di segnare in questo caso è 7 e mezzo Illich rappresenta il perfetto erede di Lukic un giocatore che a differenza però del serbo appena ceduto in Premier utilizza come piede principale il sinistro deve tornare in forma così ha detto Juric ma è un giocatore giovane prima cosa perché classe 2001 è ancora tanto da dimostrare è un giocatore sinistro e questo sappiamo quanto sia raro trovarlo è un giocatore che conosce già l'allenatore e le proprie idee quindi potrebbe essere inserito con tempi molto più veloci rispetto ad altri calciatori e questo sappiamo che è un vantaggio per la squadra vedremo se sarà sulle prestazioni poi sul rendimento in questa seconda parte di stagione il miglior acquisto di questa sessione invernale noi ci rivediamo con un prossimo video sul canale ciao a tutti